Un caro saluto a tutti voi che mi state vedendo e sentendo. Qualche volta diciamo non tutto il male viene per nuocere e in questo caso potremmo applicarlo ai giorni che stiamo vivendo decisamente difficili. Come comunità bovesana, le varie parrocchie che appartengono al comune di Boves abbiamo pensato di non lasciare passare in vano questi giorni ma di approfittare del male per trasformarlo in un bene. Che cosa voglio dire? Tutti i giorni comunicheremo uno dei sacerdoti della zona qualche messaggio a tutti quelli che lo vogliono sentire. In questo modo noi saremo uniti con una pagina del Vangelo con qualche preghiera, con qualche immagine e tutto questo ci aiuterà a sentirci comunità non importa se siamo di Boves o di Fontanelle o di Rivoira o di Sant'Anna o di San Mauro o della parte alta della Valle Colla saremo tutti uniti, un'unica comunità. Ho cominciato dicendo non tutto il male viene per nuocere ma adesso lo dico in termini cristiani. Il Signore sa scrivere diritto anche sulle righe storte. A tutti una buona e santa giornata.